Ciao a tutti, sono Nunzia Esposito, ho 23 anni e sono Miss Intercontinental Italia. Nella vita sono una studentessa di management e sono una modella e fotomodella dall'età di 14 anni. Per me è un grandissimo onore rappresentare l'Italia in questo concorso prestigioso. Non vedo l'ora di atterrare a Manila, di conoscere tutte le ragazze e di vivere questa esperienza con grinta e carica. Ma hanno un bacio forte a tutti dalla mia bellissima Napoli. Ciao a tutti.